E' un lucare per liberare. Insegnare, fare scuola. Questa è stata la mia passione. Quanti anni hai insegnato? 44. Sempre in elementari. E' già elementare, ti dice, insegnare gli elementi. Così lo dico. Adesso si chiama scuola primaria, non si chiama più elementare. Però elementare è gli elementi più importanti della vita. Prepararla alla vita. Perché la preparazione che si dà fino a 10-11 anni come scuola elementare, finiva a 11 anni. E' importantissima. Prima di tutto bisogna amare chi ti è stato avanti. Gli alunni. Amarli. Io mi ricordo una volta una bambina, non poteva stare ferma. Le cadeva la penna per terra o ce la buttava, non lo so, perché non tutte le cose si vedono. Allora lei, con la gambetta, vedeva se era caduta troppo vicino, gli dava un calcio e la spingeva più lontano. Così, per andarla a prendere, si muoveva. E io facevo finta di non vederla. Che dovevo fare? Ciao. Ciao. Coit Grazie a tutti